Tutti questi pesci, queste mini installazioni sono nate un po' per caso giocando con un pezzettino di cartone e una forbice. Piegando queste frange che si erano create, veniva fuori una lisca, una lisca bellissima di un pesce e ho fatto il mio primo pezzo. Poi da lì mi sono, diciamo, affinato e sono andato ad affrontare temi anche più complessi e quindi siamo arrivati alla balena con i palenotti armati. Grazie per la visione!